Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un gioco che fra due giorni uscirà dal Kickstarter, perché la fase del Kickstarter è finita. L'uscita era prevista per il primo quarto del 2019 e ce n'hanno mandato una copia per la recensione. Il gioco è edito dalla Monolith Games, quindi un gioco loro proprietario, e si chiama Claustrofobia 1643. C'è arrivata a casa questa copia per la recensione, questa copia per la stampa, ragazzi è una scatola, vi giuro faccio fatica a tirarla su. Io penso peserà 6 su 5 kg, ci siamo, 4,5-5 di sicuro. È una scatola immensa veramente, tanto che dietro non ci sta nemmeno più, non sappiamo dove metterla, si è trovata un posto a parte, uno scaffale a parte. Ed è un gioco a due giocatori, da uno a due giocatori, che secondo me hanno avuto veramente una figata d'idea. Come gioco, come idea, ricorda molto alla fin fine, Descent forse è un pieno più complicato, però ricorda molto un hero quest, dove c'è un giocatore e un dungeon master dall'altra parte. Qui invece sono tutti quanti i giocatori dove il primo muoverà gli eroi, mentre il secondo giocatore muoverà i mostri. Claustrofobia 1643 è un gioco a due giocatori, un board game a due giocatori, dove il primo guiderà gli avventurieri, in questa ambientazione che si chiama Nova Gerusalemme, che dopo secoli e secoli di battaglie, gli umani hanno costruito questa Nova Gerusalemme sottoterra, e praticamente questa Nova Gerusalemme è infestata dai demoni, che saranno invece guidati dal secondo giocatore. Quindi questo è un gioco da due giocatori, non da uno a quattro come tanti, ma unicamente da due giocatori. Ringraziamo ovviamente la Monolith Games, ragazzi, grazie di cuore per avercene mandato una copia, è un onore lavorare con voi, e vi diciamo che, se non erro, nel secondo quarto del 2019, dovrebbe essere da aprile forse massimo massimo a maggio, tireranno fuori il primo war game di Batman. E andate sul loro sito, che trovate in descrizione, a vedere le miniature, perché hanno fatto un war game, uno skirmish game di battaglie fra due gruppi, nell'ambientazione di Gotham City, di Batman, che è qualcosa di spettacolare, ragazzi. Infatti, non vediamo l'ora di riceverlo, e tra l'altro sono anche quelli di Pantheon, e sono anche quelli del board game di Conan. Comunque, iniziamo con l'unboxing. Allora, come detto, la scatola del gioco è veramente imponente, guardateci, la dimensione della mano è grossissima, e questo è un gioco da due giocatori, dai 14 anni in su, per una durata media a partita di 45 minuti un'ora. Apriamolo. All'interno, la prima cosa che si trova, il regolamento di gioco, tra l'altro una trentina di pagine molto semplice. Lo scenario booklet, che è il libro delle missioni con le regole, sia per il giocatore che usa gli avventurieri, che per quello che usa i demoni. Token vari, che sono abilità, movimenti, schede exhausted, quando un personaggio, come lo vedete durante le regole, sarà esausto. Tutti quanti i token, e in più ci sono anche le schede dei mostri. In questa edizione Kickstarter, proprio per farvi vedere come lavora bene la Monolith, abbiamo anche i due manuali delle regole e delle scenari in francese, quindi ci sono anche in due lingue all'interno. Spettacolo. Tabella dei mostri, più quella delle avventurieri, all'interno. Dadi degli eroi, quindi degli avventurieri. Carte equipaggiamento, anche stavolta come tutte le cose all'interno del gioco, sia in francese che in inglese. Carte azione, quelle bianche per i giocatori, quelle per il player che usa gli avventurieri, quelle nere per il player invece che usa i demoni, e anche queste sia in inglese che in francese. Tile di gioco, tra l'altro cartonato, cartonato bello, duro e resistente, tra l'altro i disegni all'interno sono bellissimi. Miniature dei demoni, che tra l'altro sono di una fattura bellissima, bellissima. Demoni, Bloodhound e Trogloditi, spettacolari. Demoni, Trogloditi e gli avventurieri. Tocche rosse di valore 1 e 3, che sono tipo delle gemmine, che servono al giocatore che guida i demoni appunto per spenderle ed evocare i demoni. Una specie di patto di sangue. Dadi per le caratteristiche delle abilità degli eroi. E dadi invece, destino, per le caratteristiche e le abilità dei demoni. Il gioco ha una mappa componibile, quindi come avete visto su Descent, su un gioco del genere, e all'inizio, seguendo il libro delle avventure, quindi scegliete insieme giocatore avventurieri e giocatore demone, scegliete insieme quale delle avventure fare, che sono tante, tra l'altro nel manuale molto rigiocabili, e componete, prendete tutti quanti i tile per quello che vi chiede l'avventura. Vi ricordo sempre che i tile, come vedete, compreso quello di partenza, hanno sempre dei valori e dei disegni, che tanto vi farò vedere. Comunque, quando c'è un disegno con un simbolo, vuol dire che quel tile ha un effetto, quando ci entrate, che dovrete prendere il manuale delle regole per vedere di che effetto si tratta. Potrebbe essere un rallentamento, un danno, o una cosa del genere. Poi ha un numero identificativo del tile, quindi quando vi da la lista, il libro delle regole, così li trovate più facilmente, e un numero qua in fondo, che ora vi spiegherò cosa serve. Comunque, all'inizio mettete il tile di partenza e tutti gli altri tile che l'avventura vi richiede, da regolamento, coperti qua giù in fondo, perché mano a mano li girerete casualmente e li andrete a montare per comporre il dungeon. Ok, a parte ragazzi le miniature che, porca puttana, bellissime, ma infatti su questo punta tanto la monolith, su fare giochi veramente che ti rimangano impressi come miniature componentistica varia, Comunque, nel primo tile di partenza voi dovete mettere gli avventurieri. Come vedete su ciascun tile c'è un numero in nero in tutti gli angoli, a parte quello rosso che è l'identificativo. C'è un numerino qua giù su tutti gli angoli e questo numero vuol dire quante unità della stessa fazione possono entrare in questo tile, quindi in questo caso 5. In questo tile ci potranno stare 5 avventurieri e 5 demoni, non di più. Non è un tile, un numero che dice che in questo tile ci possono stare 5 miniature, ricordatevi 5 miniature per fazione. All'inizio dall'avventura, quindi sempre guardando il libro delle missioni, vi verranno anche dati dei talenti. Vi ricordo che questa scheda che vi faccio vedere è quella del Redeemer, questo qui è il capogruppo. Questo qui è il personaggio principale perché nell'ambientazione dice che ci sono questi eroi maledetti o comunque decaduti che combattendo demoni e purificando la nuova Gerusalemme cercano un po' la redenzione. E quello che li guida in battaglia è questo Redeemer. All'inizio vi verranno anche dati dei talenti, che sono questi token neri, che voi andrete a mettere sulla scheda, vedete così, ad incastro, appunto dove vi dice di mettergli il libro dell'avventura stessa, quindi per il capitolo che avete scelto. Fatta questa cosa, io ora vi sto facendo vedere la scheda di un personaggio, però l'avventura vi farà mettere in campo da 3 a 5 eroi. Facciamo conto che in questa avventura noi si inizi la partita invece con 4 eroi, quindi ne aggiungo altri 2. All'inizio della partita dovremo prendere 4 dadi e tirarli. Prenderete questi piccoli 4 dadi bianchi, un dado per ogni avventuriero e lo andrete a tirare sul tavolo. Vedrete quali sono i valori, in questo caso abbiamo avuto un 4, un 1, un 6 e un 2. Questi 4 dadi dovrete dividerli per i personaggi che avrete in campo e saranno praticamente i dadi che questi personaggi avranno da usare per le caratteristiche, per le abilità. In questo caso io dico, va bene, il redeemer essendo il capogruppo gli affido un 6 e questo 6 del redeemer lo metto su questa colonna qui. Lo metto ad incastro qua giù che mi ricordo che è in questa zona. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io in questo momento, vedete, ogni personaggio ha 6 caratteristiche, segnate qui. Se io lo metto qua userò questa riga. Se io il dado l'avessi messo qua all'inizio del turno avrei usato questa riga più il talento, ok? Quindi comunque è sempre una scelta, posso usare caratteristiche un po' inferiori ma con un talento oppure una riga con caratteristiche superiori. Io mettendolo qui ho deciso che questo sarà il valore del mio dado e userò questa linea. Quindi avrò un movimento, due attacchi e un valore complessivo di difesa di 4. Più vedete il vario repilogo della scheda che c'è il nome, le abilità, i talenti del personaggio, le abilità innate, che non sono questi talenti qui ma sono proprio le abilità innate del redeemer, quello lo trovate sul libro delle regole e questa è la scheda del personaggio. Quindi tirato il dado assegnerete un dado per ciascun eroe. Completano la preparazione del turno queste carte bianche che sono carte azione per gli eroi che le pescherete casualmente, le andrete a girare e leggerete che cosa c'è scritto sopra. E qui vi viene data una doppia possibilità. Vi viene data la possibilità di o usarla ovviamente durante il turno del vostro eroe quindi o applicare quello che c'è scritto qua sopra, quindi acquistare in questo caso Resilience, un talento prenderete il talento Resilience e lo andrete a equipaggiare o se no potrete direttamente usare quell'altra parte che vedete sono, c'hanno un sopra e un sotto l'altra faccia che dice potete trasformare il vostro dado in un 6 quindi fate caso che questo dado fosse stato un qualsiasi altro valore tipo 5, 4, 3, voi lo potevate tranquillamente trasformare e rendere un 6 per avere un bonus alla caratteristica. Vi ricordo che queste carte qui vanno usate e equipaggiate nel personaggio per poi usarle nel corso del movimento. Lo stesso cosa fanno i mostri durante la loro preparazione. Durante la preparazione del mostro vi farò vedere come funziona. La plancia invece del giocatore che usa i mostri, vedete questa qui è la plancia informativa iniziale con tutte quante le caratteristiche e i bonus che i mostri possono guadagnare. L'inizio prima del turno, la fase prima del turno del mostro è la stessa di quella degli eroi quindi alla fin fine dovrà scegliere quale forze mettere in campo però ha delle piccole differenze. Inizialmente l'avventura ci dirà all'inizio quante pietrine avremo da mettere qui nella riserva e queste qui sono delle pietrine del sangue che servono per mettere in campo mostri perché ogni mostro ovviamente ha un costo. Trogloditi che sono le truppe di base hanno un costo di 1, Blowdown hanno un costo di 2 o di 3 e i demoni anche più alto. Comunque queste sono le pietrine che ogni volta potrete utilizzare per mettere in campo mostri. E in più come negli stessi giocatori, come negli stessi player, all'inizio avrete i dadi che sono neri rispetto a quelli degli eroi che invece sono bianchi. Li dovrete tirare, quindi anche questi dadi vi daranno un valore sopra che però è un valore che va da 1 a 3, non da 1 a 6 e vedete hanno un colore sopra che è o rosso o bianco. Quindi a seconda del colore avranno delle diverse abilità e punti bonus in gioco. Una volta tirati questi dadi, la cosa bella del giocatore che muove i demoni è che dovrà decidere dove metterli. Come vedete qui sulla scheda ogni abilità viene attivata, per quello che c'è scritto qui accanto, come vedete, vi daranno dei bonus, in questo caso qui se completate questa tabella vi darà più 1 al movimento, vedete c'è il simbolo del movimento, oppure più 1 al danno, oppure pescare una carta o altre cose o abilità speciali da dare al mostro, ai mostri che scenderanno in campo. Quindi al momento che all'inizio del turno questi 3 dadi saranno tirati, una volta tirati il giocatore dovrà decidere quello dei mostri dove metterli sulla scheda. Quindi nel caso io le mettessi tutte e due qui, perché vedete ha due slot con due cuoricini, automaticamente i miei mostri avranno più 1 al movimento rispetto alle caratteristiche che ci hanno di base, perché anche i mostri hanno un valore vita, punti ferita, un valore movimento, un valore attacco e un valore difesa, qui segnato sulla scheda. Completano il trio dei mostri che sono in gioco, i trogloditi, che hanno come regola che possono, una volta morti, sono tolti dal gioco, però nel turno dopo possono tornare se il giocatore li mette in campo. Gli Allound che invece una volta uccisi sono fuori dal gioco, però sono creature d'elite, d'avanguardia. In più ci sono i demoni che una volta sconfitti vengono rimossi dal gioco e possono tornare una volta, la seconda volta che saranno sconfitti saranno stati banditi dal mondo materiale e mortale, dal Redeemer, e quindi non potranno più tornare in campo. Come avete visto all'inizio, nella scheda del Redeemer, per prendere un eroe a caso, comunque il capo gruppo, che è questo qua giù, abbiamo messo il dado qui, che mi diceva che ho un movimento, due attacchi e quattro di difesa, e non uso uno dei talenti segnati qui, no? Delle abilità speciali segnate qui. Quindi all'inizio dell'avventura, perché ricordo, prima si muovono sempre gli avventurieri, dopo mossi tutti gli avventurieri, un po' come su Ira, questa c'è la fase dei mostri tutti insieme. Quindi io ora che ho un movimento soltanto, ovviamente dico che voglio esplorare. Ora, volendo esplorare per andare avanti nell'avventura, dovete vedere i collegamenti che ha il tile stesso. Quindi questa zona qui è chiusa, perché vedete il colore rosso viene bloccato dal colore nero, quindi questa zona qui è invalicabile, è chiusa, però ha un collegamento a sinistra, una a destra e uno su. Il giocatore che usa il Redeemer dice, perché l'avventura magari vi dirà, dovete trovare l'uscita o dovete trovare un tesoro, una reliquia del passato, il giocatore che usa il Redeemer dice, faccio il mio movimento e voglio esplorare un settore nuovo. Quindi trovandomi qui, da questa parte, per farvi un esempio, lui dice, ok, io mi voglio spostare da questa zona ed esplorare un'altra. Ora, la cosa bella che ha questo gioco, il giocatore incaricato quindi di muovere il Redeemer potrà dire, voglio esplorare, e decide lui, ovviamente ho questo, ho quella, ho quella laggiù. Per questo non c'è differenza. Però la cosa bella di questo gioco è che sarà il giocatore che interpreta il demone a dover girare il tile successivo per decidere dove andare e quindi sarà quello che interpreta il demone a creare la mappa del gioco. Posso metterla così invece per sfruttare invece la verticale. La cosa importante, ricordatevi sempre, il valore che c'è qua giù in fondo e soprattutto il simbolo che c'è qua, perché questa stanza con questo simbolo avrà una regola speciale. Questo cosa vuol dire? Che lui, fatto il suo movimento, si muoverà qua giù e andrà in questa zona qui del dungeon, mentre invece, come vedete, il numerino 3 vuol dire che qui ci potranno stare tre personaggi della stessa fazione, quindi tre eroi e nel caso tre mostri. Vi ricordo che anche i mostri contano sempre uno, anche quelli più giganteschi contano uno. Quindi, nel caso questo eroe qui col flagello volesse muoversi qui, non potrà farlo perché la zona sarà già piena con il numero massimo d'eroi che ci possono entrare. Inizia la fase del giocatore che muove mostri, che muove demoni, che dice, io farò iniziare, ovviamente dovrà essere messo un altro tile per fare entrare in campo i mostri, perché i mostri hanno l'unica regola che possono sponare dove vogliono nel dungeon, ovunque, se c'è 30 tile, possono scegliere da dove partire, l'unica cosa è che non possono mai sponare nello stesso tile occupato da uno o più avventurieri. Quindi il giocatore che muoverà i mostri, in questo caso, a inizio avventura, potrà farli sponare soltanto da questo tile qua giù che è collegato, come vedete, al resto della mappa. Dovrà spendere le pietruzze rosse, dovrà far fede all'abilità e ai dadi che ha messo per i propri mostri e dovrà poi dopo andare a pescare il mostro per quanti ha deciso a revocarne. Quindi io potrei dire, con queste 5 pietrine, magari faccio sponare, boh, non lo so, un Elound e due Trogloditi. Vado quindi a mettere in campo le mie forze, un Elound e due Trogloditi e anche io a quel punto avrò tutte quante le regole del mostro sulla scheda del mostro. Quindi nel caso di un Troglodita, un Troglodita si muove di 1 e quindi vi ricordo sempre di vedere il valore perché in questa zona qui ci possono stare 3 mostri e 3 avventurieri. Quindi nel primo mio movimento, perché se i mostri e gli avventurieri si muovono uno per volta, io sposto il Troglodita in questa zona qua giù, quindi sono in un tile a contatto con gli altri giocatori, e inizia con gli avventurieri, e inizia il combattimento. Vi ricordo, unica regola, potete fare sia azione che movimento, le potete fare combinate, però non potete poi dopo rimuovervi. Quindi se io rimango in questa zona posso attaccare, se io fossi partito da qui potrei attaccare gli avventurieri e poi spostarmi. Questo lo posso fare. Però non posso muovermi, attaccarli e scappare. Quello assolutamente no. Cioè, una volta fatta la prima azione si può fare la seconda, ma non rifare la prima. E in più c'è una regola. Se si vuole scappare da una zona di combattimento per andare direttamente via ed evitare appunto di morire, lo possono fare sia i mostri che gli avventurieri con l'unica regola che le forze devono essere pari o in superiorità. Quindi, qui, gli avventurieri potrebbero scappare perché sono il 3 e il demone in 1, il troglodita. Però il troglodita, essendo 1 contro 3, non potrebbe farlo. Dovrebbe prima ammazzarne 2 e restare 1 contro 1. A quel punto, le forze in pareggio li consentirebbero di andare via. Vi ricordate che all'inizio dell'avventura avevamo detto che il redeemer per la colonna che aveva scelto era stato decretato che lui avesse un valore di difesa pari a 4. Quindi, questo cosa vorrà dire? Che dovrà essere tirato un dado per l'attacco del mostro contro di lui. Tirato questo dado, andremo a vedere il valore sul dado. Un teschio è sempre una ferita in qualsiasi caso. Però, per superare la difesa di un mostro o di un avventuriero dovremo fare un valore uguale o superiore alla sua difesa. Quindi, in caso del redeemer un 4 o più. Io ora ho fatto il mio movimento. La scheda del troglodita mi dice che lui ha un dado di attacco quindi vado a prendere il dado e lo tiro. Ho fatto un punteggio di 5 quindi, automaticamente ho fatto una ferita al redeemer. A questo punto tutti quanti gli avventurieri hanno 6 punti ferita. Praticamente i punti ferita sono le stesse linee delle abilità. Avendo 6 punti ferita il redeemer dice ok, io ho subito la prima ferita le ferite non si recuperano col tempo si recuperano ovviamente per carte particolari o eventi particolari o abilità del personaggio comunque il redeemer dice io ho subito una ferita e quindi devo decidere dove metterla. Mettendo una ferita facciamo caso nel primo slot qua su in cima prenderà il piccolo token col teschio 3D fatto tra l'altro bene e dirà io la metto qui quindi questa riga non sarà più utilizzabile per tutto il resto dell'avventura fino a che il redeemer non verrà curato se lui deciderà di metterla qui questa colonna non sarà più utilizzabile e nemmeno il talento quindi al momento che lui prenderà il dado nel turno successivo lo andrà a tirare e lo andrà a posizionare in una delle abilità che vuole usare delle caratteristiche e non potrà assolutamente metterlo qua su in più quando tutti gli slot mettiamo caso il redeemer stia per morire cioè abbia 5 punti ferita ha preso 5 ferite e nell'animale soltanto 1 la prossima volta che subirà una ferita e quella ferita dovrà essere posizionata per forza di cose in una delle righe già occupata appunto da un'altra ferita subirà invece un token una striscia di exhausted che questo vorrà dire che dovrà vedere dove in avanti i nuovi valori segnati qui sopra ovvero non avrà più talenti e in più avrà 0 di movimento 0 di attacco e potrà unicamente difendersi perché sarà stanco e non riuscirà a muoversi e perderà completamente il turno stessa cosa per i combattimenti quando invece sarà il turno degli avventurieri gli avventurieri potranno tirare il dado tireranno il dado con l'unica differenza che i punti ferita dei mostri sono segnati sulla scheda quindi il troglodita che ne ha uno subita una ferita verrà automaticamente rimosso dal gioco e potrà tornare nel turno successivo ragazzi queste sono le regole del gioco perché è veramente un gioco molto semplice immediato e sicuramente è la cosa più bella che potessero fare perché ci vogliono giochi così giochi veloci divertenti che le regole una volta che hai letto il manuale ti rimangono in testa le regole sono queste ve l'ho detto regole del tile regole di combattimento regole di ingaggio regole di spawn finito il gioco il gioco è semplicemente questo qua in più dovrete completare l'obiettivo potrebbe essere un obiettivo di mappa di scappare o potrebbe essere un obiettivo di mappa dove vanno sconfitti magari va sconfitto un principe demon in particolare che entrerà in campo guardate tra l'altro che è miniatura disumanamente bella e potrebbe essere l'obiettivo dell'avventura che all'inizio verrà sempre scelto dalle parti comunicanti questo è tutto ragazzi questo alla fin fine è il regolamento del gioco al solito c'è qualche regoletta in più ma va sicuro le regole del gioco sono queste allora è un gioco molto veloce è un gioco interessante è secondo me è veramente la giusta fusione fra io lo sapete vado sempre a prendere i giochi perché è normale poi alla fin fine ricordano a volte le regole di uno rispetto a quelle di un altro secondo me è la giusta fusione se a un giocatore non gli piace la troppa semplicità di HeroQuest dove il Dungeon Master è una figura passiva oppure non gli piace la figura di Descent perché invece Descent è un gioco con troppi tile troppi token 3 miliardi di rec non ci si capisce nulla questo per me è la giusta fusione fra poi un gioco fantasy quindi anche lo richiama fra un HeroQuest e un Descent io ringrazio una volta ancora la Monolith Games perché ci hanno mandato un gioco che è qualcosa di spettacolare e uno dei giochi che quando abbiamo iniziato a fare recensioni di Board Games l'avevamo addocchiato già dall'inizio ho detto ma figuriamoci se ora magari ci considerano una casa così importante come la Mon però alla fin fine ci hanno ricontattato loro ce ne hanno mandato una coppa recensione e io spero che questa collaborazione vada avanti nel tempio quindi veramente thank you guys for this great gift come voto al gioco gli do un secondo me se la merita tutto un 9 su 10 non glielo do tanto per il fatto che sia un gioco particolarmente differente rispetto a tanti altri perché comunque sono regole che magari abbiamo visto in tantissimi altri giochi quindi la novità c'è ma in piccolissima parte gli do un 9 su 10 che ovviamente è un voto personale non sono recensore quindi per un altro potrebbe essere 2 per me è 9 però gli do un 9 perché in questo gioco ho trovato tutto quello che cerco da un board game ovvero tante miniature fatte bene regole semplici tornerò ancora ripeto lo 100.000 volte per fare un board game serve una bella idea non servono regole complicate le regole complicate ti fanno passare la voglia che quando leggi il manuale sudi capito invece questo è un gioco immediato ti leggi il manuale sai già cosa devi fare e dopo mezz'ora che l'hai letto sei pronto a fatti una partita il tutorial che hanno fatto quelli della monolith sul loro canale youtube dura 10 minuti cioè quindi fate voi che regole c'è da spiegare quindi 9 su 10 perché è un gioco che prendi apri mentre uno inizia a defustellare tutto a quell'atto si legge le regole tempo mezz'ora si fa subito una partita e quindi un gioco del genere per me merita veramente il massimo non il massimo del voto perché magari poteva essere fatto di più qualcosa alleggerire un po' i token altre cose però un 9 su 10 lo merita veramente al massimo livello ragazzi colgo l'occasione per dirvi che il sito maledetti dadi è al momento fermo perché lo riprenderemo magari lo porteremo avanti però è un sito che richiede tanto tempo non abbiamo deciso di fermare recensioni e articoletti quello assolutamente no però abbiamo deciso di portare avanti molto di più la parte il canale social di instagram quindi tutte le mini recensioni in pillole ovviamente che instagram non ti consente di fare articoli molto lunghi recensioni in pillole le metteremo sulla nostra pagina instagram quindi seguitela perché la trovate in descrizione cliccate e inseritela che oltre alla recensione video che avete visto ora potrete anche leggere qualche impressione appunto una valutazione finale più foto del gioco se va quello instagram che troverete sul nostro social e poi cogliamo anche l'occasione per dire che siamo tornati tutte le sere in live tutte anche sabato e la domenica non c'è più riposo dalle 8 alle 11 sul canale twitch quindi siamo in live tutte le sere con videogiochi su twitch non porto board game e ci ritrovate cliccate sul link che trovate in descrizione e seguiteci perché tante volte qualcuno dice ah Corey è un mese che sei tornato in live non lo sapevo quindi anche quello seguiteci tutte le sere e da dire ragazzi io gli do assolutamente voto 9 su 10 è un gioco bellissimo una spesa contenuta perché quella che infine si può andare a costare un'ottantina d'ero una cosa del genere però insomma per il contenuto che c'è dentro ne va bene è un gioco molto interessante ed è un gioco tra l'altro che farà la felicità di tutti quegli amanti del gotico questa ambientazione un po' alla diablo un po' sepolcrali e cose del genere maledette il gioco ovviamente andate sul sito della monolith che trovate in descrizione perché è un gioco uscito da un kickstarter però che verrà venduto anche fuori dal kickstarter e non vediamo l'ora di vedere fra qualche mese il gioco di batman perché veramente quello secondo me sarà uno spettacolo a dire poco ragazzi spero che la recensione vi sia piaciuta fatecelo sapere con un commento e ci vediamo alla prossima ciao belli ciao ciao